Oggi pomeriggio parleremo delle guerre in corso. Comincerò dando un'idea di quelli che sono stati i conflitti negli ultimi 30 anni, i conflitti del disordine globale, per poi soffermarmi soprattutto sulla guerra in Ucraina, i suoi caratteri, le prospettive di soluzione di questo conflitto e anche il nuovo volto della battaglia, come le nuove tecnologie hanno cambiato il comportamento e le possibilità di sopravvivenza degli uomini sul campo di battaglia. Io spero che l'incontro di oggi possa servire ad avere una maggior consapevolezza di che cosa sono le guerre della nostra epoca, di quale può essere il ruolo dell'Italia e dell'Europa soprattutto nei conflitti e di quali possono essere le soluzioni di questi conflitti.